Ancora in termini di avanguardia, se volete avanguardia musicale, che arriva da un gruppo dei Poliroc, guidati da Billy Robertson. Loro sono conosciuti anche al pubblico italiano perché hanno fatto parte della tournée italiana dei Tolkien Eds e anche dei TomTom Club, gruppo davvero grosso. Dunque, qui sono venuti a presentarci un pezzo tratto dal loro ultimo album, il pezzo si chiama Working On My Love, ecco i Poliroc. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.